Era stato quasi distrutto nel 1981, c'era una passerella provvisoria, poi le altre alluvioni degli scorsi anni avevano contribuito a distruggere tutto, le fondamenta erano andate quasi perdute, adesso il nuovo ponte sulla Manfredonia Zapponeta è stato inaugurato, è stato inaugurato proprio questa mattina dalla provincia di Foggia e ricordiamo che è stato costruito, ricostruito in tempi record, un anno e mezzo. Abbiamo ricostruito questo ponte in poco tempo e finalmente possiamo restituire al territorio questa tratta di strada, è importante perché c'erano diversi disagi che gli agricoltori della zona ma anche tutti gli imprenditori ma anche tutti gli abitanti dei dintorni subivano per la chiusura del ponte e della strada, quindi poter restituire al territorio questa opera infrastrutturale importante è sicuramente motivo di soddisfazione. La percorribilità del ponte del Candelaro può finalmente permettere il disegno di un tragitto più breve e meno difficoltoso per gli utenti che frequentano la riviera Sipontina e l'area compresa fra Manfredonia e Zapponeta per immettersi in un'altra arteria in rifacimento, la provinciale 141 delle Saline.